I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Carinaro hanno proseguito nello sciopero a Scacchiera che da alcuni giorni crea problemi alla produzione con il blocco a turno di varie linee produttive rallentando così il processo di realizzazione del prodotto finito. Momenti di tensione ci sono stati quando gli stessi lavoratori sono entrati in fabbrica con una troupe televisiva senza aver ottenuto l'autorizzazione per l'ingresso delle telecamere da parte del direttore dello stabilimento. I lavoratori che protestano dal 16 aprile scorso contro la decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento sono poi usciti dalla fabbrica e hanno continuato a presidiare l'ingresso dell'insediamento dove sono state montate tre tende. Alcuni lavoratori hanno annunciato che saranno creati problemi ai seggi elettorali il prossimo 31 maggio nel caso in cui il governo non intervenga ma molti sindacalisti non si sono detti d'accordo su tale iniziativa. Prima di tutto ha spiegato il leader casertano della UEL, Mantonello Accurso, pensiamo allo sciopero generale di domani dove ci aspettiamo una massiccia presenza dei lavoratori casertani. Il leader della FIOM, CGL, Maurizio Landini, a Lanciano ha presentato intanto la sua coalizione sociale a proposito dei tagli annunciati dalla Whirlpool e ha detto è necessario approfondire il negoziato, un'azienda che parla di 500 milioni di investimenti è importante ma qui emergono contraddizioni visto che si vuole licenziare e chiudere stabilimenti al sud e aumentare l'occupazione al nord.